La nostra rassegna stampa Quelli nazionali mandiamo subito in onda invece il servizio che riguarda l'apertura della campagna elettorale di Aldo Patriciello in corsa per le elezioni europee. Un voto con la testa e col cuore e non con la pancia. Aldo Patriciello chiede questo ai molisani, chiede di tornare in Europa per contribuire a cambiarla con Forza Italia nel Partito Popolare Europeo, partito di governo. Ha aperto la sua campagna elettorale in Molise l'europarlamentare uscente a vinchiaturo tradizionale per lui bagno di folla che lo riempie ancora di più di responsabilità come ha detto ai nostri microfoni. Le attende un bagno di folla qui dentro? C'è il Molise che l'aspetta. Che cosa promette Aldo Patriciello? Al Molise al sud se torna a Bruxelles? Al bagno di folla sono in qualche modo abituato. Mi emoziona, mi rincuora, mi riempie di responsabilità, mi fa sentire me stesso. Cosa mi aspetto? Cosa voglio dire? Io dico una sola cosa ai miei concittadini, ai miei amici, a coloro che da 15 anni mi danno fiducia per giungere e per andare a sedere sui banchi degli scanni del Parlamento Europeo. Allora dico una sola cosa, di continuare ad essere me stesso, di continuare nel mio modo, nel mio pragmatismo, nella mia concretezza e continuare a rappresentare il mezzogiorno d'Italia in Europa perché credo che ce n'è bisogno. L'ingresso in sala di Aldo Patriciello salutato da un grande applauso così come il suo intervento. Insieme a lui in prima fila tutte le massime autorità istituzionali della Regione. Regione tornata al centrodestra esattamente un anno fa. Dal palco il governatore Donato Toma ha ricordato il lavoro instancabile che proprio Patriciello fece per riportare il centrodestra al governo della Regione. Aldo Cera ha detto Toma c'è e ci sarà in Europa queste le motivazioni per cui secondo il Presidente della Regione è importante che l'eurodeputato torni per la quarta volta a Strasburgo. Che valore ha l'onorevole Patriciello in Europa per il Molise? È il nostro cordone umbilicale con l'Europa, sempre disponibile, sempre presente. Io vado a Bruxelles periodicamente perché come sapete sono nell'ufficio di presidenza del Comitato delle Regioni. L'onorevole Patriciello è un eccellente filo, è un eccellente umbilico, è un eccellente cordone verso l'Europa. E anche la coordinatrice regionale di Forza Italia, Annalisa Tartaglione, deputato dal palco, ha chiesto un voto per Forza Italia e per Patriciello senza dimenticare un passaggio sul Presidente Berlusconi. La dimostrazione è che come sempre Aldo c'è, come dice il suo slogan, non poteva scegliere una parola migliore per questo evento. Perché Forza Italia in Molise c'è, è presente, abbiamo conquistato la Regione. Speriamo e siamo sicuri che riporteremo anche questa volta il nostro rappresentante in Europa. E allora, vediamo subito come titola oggi Primo Piano Molise, apertura appunto dedicata ad Aldo Patriciello, elezioni europee, bagno di folla per il parlamentare di Forza Italia che avvia la campagna, disegnando un'unione che risponde ai giovani e alle imprese, oltre 2.000 persone alla convention, grande emozione a chi da 15 anni mi dà fiducia, assicuro che resterò a me stesso. Il Governatore Toma è il nostro cordone ombelicale con l'Unione Europea, Tartaglione. Il suo quarto mandato sarà una fortuna per il sud intero. Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, tutto confermato l'8 maggio arriva Di Maio. Il punto oggi parla di editoria al collasso di Anas, ma non solo, e del silenzio della politica. Termoli, vandalinazione, danni alla targa per Don Giussani. Isernia, furto nell'Agenzia di Veneziale e a Venafro, rissa per una sigaretta. Poi c'è lo sport con l'Agnone, che va ai play-out con la Vastese e l'Isernia, che saluta la Serie D. Eccellenza, Venafro ai play-off, Termoli altra farsa, Matese sprofonda, promozione pari a Trivento, Baranello di Laga, Spinete in corsa, Pallacanestro, Italian Gas, da Sisi passivo pesante. Il quotidiano del Molise, bagno di folla per Patriciello, Strasburgo è vicina. Sono l'unico parlamentare che può essere riconfermato. Il Sud vuole riscossa e non assistenzialismo. Aperta, vinchiaturo, la campagna elettorale delle esponenti azzurro. A Matera, per una cultura del lavoro, una delegazione unitaria del sindacato parte dal Molise. Trasporti, rincari, tariffe in finanziaria. Scatta la mobilitazione del PD e del guerriero Sannita. Termoli al porto scatta l'operazione Piazza Pulita. Tradizioni, il Maggio Larinese, occasione di festa e cultura. Fiat Termoli, cassa integrazione, domani ultimo giorno, nuovo turno dal 24 maggio. Isernia, stop, strisce blu, raccolte, 300 firme. Palazzo San Giorgio è la portata di Luigi De Socio, candidato con la Lega al fianco della D'Alessandro. Sport, Isernia all'Inferno, l'1-1 la spedisce in eccellenza. Agnone, play-out, vasto. Play-off, il Boiano sfida il sesto. Roseto all'esame Venafro, unico play-out, gamba tesa. Riccia, promozione, spareggi, fortore, spinete. E chieuti, ururi per evitare la prima. Il baranello, tifa, agnonese. Le testate nazionali, il giornale, truffa dei politici in rete, falsi, 7 follower su 10. I 5 stelle spiccano per profili farlocchi, record per Grillo e Renzi. Di Maio e Salvini, oltre il 60% di fake, ecco come fanno. L'attacco del presidente Foa, noioso e guadagna troppo, Lega e Rai contro Fazio. Oggi Matteo in visita a Pietrelcina, guerra santa con Conte, Salvini gli scippa a Padre Pio. La guida su come fare il 7,30 e pagare meno tasse. Senza palle, muti, rissa al governo, dal caso Siri al fantasma della crisi. Insulti da bar del Movimento 5 Stelle e il leghista, tappatevi la bocca, ultimo avviso. Pioggia di tweet feroci, caos alla difesa, anche generali contro la 30. L'analisi, la caducazione, quell'essico DC del Premier. Il Corriere della Sera, il governo nel caos, insulti tra gli alleati, Salvini, tappatevi la bocca, l'ultimo avviso. Intervista al procuratore uscente di Roma, Pignatone, i politici usano le inchieste. Medio Oriente, Gaza e Israele, ore di battaglia. Razzi palestinesi, l'esercito risponte, oltre 20 morti, 4 nello stato ebraico, più di 650 colpiti dalla striscia. Gli Stati Uniti con l'alleato diritto all'autodifesa. Amo mio padre e boss, ma da oggi lo rinnego, il figlio di un malavitoso al corteo, per la bimba ferita. Andiamo su Repubblica, Noemi, 4 anni, Napoli, in piazza per lei. La città sfida i boss sul luogo dell'ultimo agguato, la bimba è sempre grave. Caso Siri, 600 mila euro sospetti da San Marino per la palazzina della figlia. Il processo di Mimmo Lucano è quello del suo giudice, l'ex sindaco, io, umiliato e sfinito. Il procuratore non dorme la notte. Da Repubblica andiamo sul messaggero. La UE, manovra severa in autunna. Domani le previsioni della Commissione. Italia è a rischio procedura per il debito. Nessuno sconto sulla prossima legge di bilancio. Ma il governo diviso aspetta il voto. Movimento 5 Stelle, la Lega, faccia di mettere Siri. Il carroccio, ora tappatevi la bocca. Gaza, Hamas ha lanciato 700 missili. Israele, dopo i raid, manda le truppe. Sfida sul Salva Roma, Meloni avverte Salvini. Rispetta la capitale. Il leghista Campidoglio serve efficienza senza soldi. Alla Camera, Fratelli d'Italia, pronti ad appoggiare il testo del Movimento 5 Stelle. Serve visione, la città non diventi uno scalpo. Andiamo sul sole 24 ore. La classe media, sempre più povera, perso dal 2008. Il 12% del reddito è il calo decennale nella fascia da 26 a 55 mila euro. Il 43,8% degli italiani non arriva a 15 mila euro. I più ricchi sono il 5% dei contribuenti. Il numero di famiglie con un reddito medio è calato quasi ovunque negli ultimi 30 anni. Spagna, meno 9,4. Germania, 5,8. Olanta, meno 5. E Italia, meno 3,9. Lega e PD in gara per gli indecisi. A 20 giorni dalle elezioni ancora senza scelta 8,6 milioni di italiani. Tra gli incerti più donne 66%, adulti 41% ed europeisti 55%. Il Tribunale, imprese, teme class action e nuovi fallimenti. Corsa il 5 per mille, ma la dote non basta. Tagliati 9 milioni. Bene, prima di salutarci vediamo quali sono i programmi che andranno in onda oggi sulla nostra rete. A partire dalle 11 contro la rovescia, alle 13 fuori menu, 13.50 Musa TV, alle 14 il TG, alle 16 speciale Transumanza, alle 18.verde, 19.30 TG News, alle 21 fuoco incrociato, alle 23 l'ultimo appuntamento con l'informazione. È tutto anche per questa mattina. Grazie come sempre per averci seguito. Arrivederci. Grazie a tutti.